Oggi ci troviamo a Caldogno, Vicenza, e abbiamo appena fatto un'installazione di una porta scorrevole. Sardina. Prego, seguite. Allora, siamo dalla signora Maria Cristina, abbiamo appena fatto queste installazioni di questa porta. Ci abbiamo messo tanto? No, siete stati bravissimi. Quando ci abbiamo messo? Quanto d'ora? Sì. Quanto d'ora per montare questa porta? Bravissimi. Una porta sapinata, modello Canem, che praticamente ha tutte queste linee in orizzontale, che non sono delle linee fatte bene a spalla, sono delle linee leggermente arrotondate, non c'è niente nulla qualifica. Il cristallo, in questo caso qua, è un acidato temperato, un cristallo molto robusto, e sempre la nostra veletta in alluminio della Seriglass, che ha un funzionamento che è meraviglioso perché basta solo un dito per farla scorre. In questo caso qua l'abbiamo fatta scorrere esattamente dietro un mobile del soggiorno, ci troviamo naturalmente saluti, saluto, e va a coprire, questa porta una volta chiusa, il corridoio che va alle camere e naturalmente a coprire anche il bagno. Questa porta qui è stata realizzata su misura, ha una dimensione di un metro e sei centimetri che per due metri è dentro qua. Alla prossimo video Grazie per la visione! Grazie per la visione!